Designato un arbitro di fuori regione per la sfida dell'Ovidiana Sulmona contro il Miglianico, in programma domani alle 15.30. A dirigere sarà Gianluca Frizza della sezione di Perugia, a dimostrazione dell'importanza del match che metterà di fronte due delle migliori squadre del campionato. I biancorossi, costretti ad emigrare a Castellisangro, affronteranno una nobile decaduta che, dopo la retrocessione dall'eccellenza, si è affidata ad un allenatore navigato come Paolo Savini. I ragazzi di Candido di Felice sono alla ricerca del primo successo. Due punti conquistati finora sono pochi per una squadra che punta al vertice. Con l'intento di migliorare in fase realizzativa è arrivato l'attaccante spagnolo Alejandro González Rodríguez, ex Serie B del Cipro e terza divisione della Spagna, che dovrebbe esordire dal primo minuto. Dopo due pareggi consecutivi, Lovidiana Sulmona punta ad ottenere quel successo che permetterebbe di rilanciarsi per rispettare gli obiettivi della società e del tecnico. Sarà comunque un impegno difficilissimo contro un miglianico che vorrà riscattarsi dalla sconfitta casalinga contro il San Salmo. La squadra di Savini non è assolutamente da sottovalutare, in quanto ha inorganico elementi importanti come l'ex dei nerostellati indiaie e i confermati Nicola Stedidonato, Gabriele Di Moia, Marco Battista e Matteo Morelli. Tra i nuovi innesti c'è l'ex del Sulmona Federico Sablone, attaccante proveniente dal Castelnuovo Vomano. Il tecnico dei sulmonesi di Felice dovrà fare ancora meno degli infortunati tosti e bianchi, mentre gli altri sono tutti a disposizione. La gara si giocherà finalmente a porte aperte e la società si augura di avere a Castellisangro una discreta presenza di pubblico. Ingresso a 5 euro al campo nei pressi del palazzetto dello sport del centro altosangrino. L'arbitro perugino Gianluca Frizza sarà coadiuvato da Fabio Falcone di Vasto e Ottavio Colanzi di Lanciano. Impegno in trasferta con la Casolana per il Raiano. La squadra di Gianluca Casanova, dopo il primo punto conquistato domenica scorsa contro la Fata Erangelini Abruzzo, proverà ad ottenere un risultato positivo per salire di qualche posizione in classifica. Nei Raianesi rientrerà dalla squalifica il difensore di Gian Antonio, mentre nei locali mancherà il portiere Davide Napoli in seguito all'espulsione rimediata nel match perso contro il Casalbordino. A disposizione della Casolana c'è il nuovo innesto ex Ovidiana Sulmona Massimiliano Di Bacco, ceduto in prestito dai Nerostellati, che ha esordito domenica scorsa entrando nel secondo tempo. Casolana Raiano sarà arbitrata da Riccardo D'Adamo di Vasto, assistenti Francesco di Marte e Vincenzo Scaramella di Teramo.